Do you wanna know a secret? Fateli aumentare! Comunque, oggi Brave Frontier RPG, la pagina di Facebook, ci ha fatto notare, non è vero, ha fatto uscire un questionario da fare dove andremo a ricevere due bellissime gemmine che non fanno mai male se compiliamo questo questionario. Quello che ci dice il questionario, o quello che ci dice Brave Frontier riguardo al questionario è Ehi, evocatore, mentre ci avviciniamo al secondo anniversario per Brave Frontier RPG, il Team Gumi Europe gradirebbe sentire la tua opinione su alcuni degli aspetti del gioco, oltre a conoscerti meglio, meglio. Quindi, ragazzi, comunque, ok, Plumataci e Yggdras e Lie, sono bellissime come unità! Tanto scusate qua se devo chiudere le notifiche. Come sono bellissime le unità, ma, ragazzi, ci saranno le unità del secondo anno di Brave Frontier. Ormai è tardi per dirvelo. Tenetevi le gemme, ok? Che lì ci sarà da scioppare. Avviamente tanto. Comunque, piccola parentesi, non so se avete notato, ma nella descrizione di Plumataci si parla di costellazioni, ok? Io mi ero mandato di teoria che le prossime unità sono delle costellazioni, quindi... Quindi, evviva i Cavalieri dello Zodiaco! Comunque, per farlo abbiamo realizzato un questionario che resterà aperto fino a venerdì 13 maggio, alle 16. Quindi, affrettatevi, avete ancora 6, 7, 8, 9, 10 giorni. Riempiendo, ad esempio, il Zodiaco riceverai due gemme in una data futura. Yeah! Quindi, se mettete il vostro ID, ricevete due gemme. Cosa ho cliccato? Ok, niente. E no, invece clicco a caso. Pa, pa, pa! Non so per chi gioca un po' da Brave Frontier. In teoria, il venerdì 13 dovrebbe esserci il Freaky Friday, ma vabbè. Comunque, andiamo a vedere questo posto, che non sono ancora entrato. Conosciamoci meglio. Ma che carino il banner. Si riesce a prendere? No, voglio il banner. No, voglio il banner. Dopo vedrò se riuscirò a prenderlo. Ah, ok, lì parla della stessa cosa. Io voglio le 7 stelle delle semidee. E ovviamente anche di Scramia, non è detto. Allora, prima di iniziare, qual è il tuo ID? Vabbè, la risposta la sappiamo tutti. E la tua mail verrà utilizzata solo in caso di comunizioni importanti per... Nei non per scopi promozionali. Che peccato, magari mi chiamavano lì a fare tipo il programmino che c'è, come quelli che fanno... Quelli della... Brave Frontier americano e giapponese. Non vedete la mia password. E la mia mail, scusate. Allora, quali erano i tuoi RPG preferiti durante l'infanzia? Quali erano i miei RPG? Pokémon si può definire un RPG? Io non credo. O forse sì, no. Dragon Quest. Ha amato Dragon Quest fino alla fine. Lo amo tuttora e non vedo... Oggi è... Oggi. Quest'anno sono i 30 anni di Dragon Quest. E ho scaricato anche il gioco in giapponese, però non riesco a giocarci perché è in giapponese, quindi non capisco niente. Allora, io cos'è che ho giocato... Kingdom Hearts non è un RPG. No. Dragon Quest in teoria sì. Sì. A quali giochi mobile stai giocando regolarmente? Oh mio Dio! Mi fai ridere. Allora, in quali giochi sto giocando? Allora, Brave Frontier RPG. G. Poi sto giocando a... Mystic... 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 King... King... Kingdom... Poi... Adesso scrivo un gioco che... Vi porterò a caso un video. A casissimo. Che è... World... Trigger. È solo in giapponese ed è World Trigger. Poi... Sto giocando anche a... Na... Credo che si dica così. Non mi ricordo come si chiama il gioco. Ma è questo qua il nome. E poi... Non gli metto il gioco di Pokémon. In questo periodo... In questo periodo... Dai, mettiamo anche One Piece Stranger Cruise, anche se non sto giocando da tanto. Ragazzi, ho una vita sociale. Tranquilli. Ho una vita sociale. State tranquilli. Altri giochi in questo periodo? No, beh. Direi basta che è più di così. Tra i seguenti titoli a quale hai giocato per più di due settimane? Summoner War. Marvel Contest. Non so neanche... Walking Dead, no? Magic Crash. Dungeon Boss. Monster Legends. Unison League, no? Dungeon Hunter. Summoner Wars. Summoner War. Anche se, ragazzi, ve lo devo dire assolutissimamente. Summoner War è carino. Ma secondo me è più bello... War Hero. O Hero War. My Hero. Eh sì, My Hero Academy, ciao. Dungeon Hunter. Uno di questi giochi qua volevo farlo, però non ci ho più pensato. Su quale piattaforma giochi? PS tutta la vita. Scherzando. Telefono Android. Posso fare anche... Oh, no. PC? PC. iPhone, iPad, tablet, Android. No, sì, va bene così. 5. Quali sono i tuoi generi videoludici preferiti? Ah, è un JRPG. Ok. World of Warcraft. Si può dire che mi piacciono gli MMRPG anche se ne ho giocati due o tre o quattro? In total of my life? In all my life? Party games sono carini, eh. Però no. Però no. Giochi di combattimento? No. JRPG? Io direi quelli. Strategia? No. MOBA? Ligo? No. No? No? Basta, fine. Direi RPG tutta la vita. Giochi a qualche RPG di GG fisico? No. Warhammer non ci gioco. Shadowrun non so cosa sia. Neanche Discworld. Neanche Inns. Vampire The Masquerade non so. Beyond Fantasy. Che roba è? Anima. Anima forse l'ho sentito parlare. Netrunner. Non sto giocando a nessuno di questi. Basta venirmi fuori. Quali sono i tuoi generi preferiti in fatto di telefilm? Anime. Io definisco anime telefilm, ok? 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 Commedia. Big Bang Theory, direi. Fantasy erotico. Direi Game of Thrones, sì. Drammatico, no. No. Once Upon a Time, no. Shifai, Star Trek, but no, non ci guardo. No? Guardo poco telefilm? Quale tipo di manga, anime, leggi e guardi? Shonen. Shoujo? No. Direi no. Anche se ho visto Chunibidimo Kogashitai, quindi. Nyeh. Investigativo. Sport. Altro. Io. Aspetta, eh. Aspettate. World Trigger. Che genere è definito? Shifai? Gundam? No, non credo. Commedia, GTA, School Drama. Commedia, sì. Sono belli. C'era l'anime della Square Enix. Carino, andatevelo a vedere. Che parla di tre ragazzi e... Lo so, le loro storie. Che non mi ricordo come si chiama. Vabbè. Ehm... Direi Shonen Investigativo e Commedia. Perfetto. Quale sito dedicato ai... Non seguo siti dedicati ai videogiochi. Mi spiace. Seguo i miei amici, che mi dicono tutto quello che devo sapere. Dieci! Come scopri un gioco di solito? A caso, passaparola. Tantissimo passaparola. Tantissimo passaparola. Su Brave... Quanto è importante per te la storia? La storia dell'unità o la storia normale? Quattro. La storia è carina. Come valutaresti la storia? Quanto è importante la storia? La storia è importante, molto importante. Se no non ci sarebbe il gioco, ragazzi. Come valutaresti la storia di Brave Frontier RPG? Quattro. Quanto è importante per te collezionare e gestire unità? Finché uno ha le possibilità... Regalatele però le unità. Come valutaresti il collezionare e gestire unità? No, ma è poco imparziale, eh. No. Quanto è importante per te la storia... Ragazzi... Ragazzi... State facendo... No, io direi di mettere uno così ci fanno i dungeon facili. Porca miseria. Impossibili sono i dungeon, ok? Che abbiamo le unità, ma porca miseria. Sono impossibili. Ah... Anzi... Qua fatemi mettere quattro e qua fatemi mettere quattro. Quanto sono importanti per te le sfide? Quattro. Cinque. Sono importanti. Se no che gioco c'è? No, non c'è gioco, ragazzi. Ragazzi, non c'è gioco. Come valutaresti le sfide su Brave Frontier RPG? Buono, buono, buono. Quanto è importante per te la creazione di oggetti? Molto. Ripetiamo, se no non c'è gioco, se no non c'è statistiche OP, statistiche alte, quindi... Sei un RPG, porca miseria. Devi per forza creare. Che domande sono? Se tutti quanti mettessero uno, cos'è? Ti regalano niente, giochi. Ci sono le unità, fine. Ti regalano tutto. No, nel senso là. Cosa ami di più dei nostri personaggi? Il loro aspetto, fine. Tutto. I loro volti. Mi devono piacere gli occhi, mi devono piacere. Le armi sono bellissime. Faccio contenti quelle delle pixel art. Eh? Che nessuno mai gli dice niente. Gli effetti visili? No, queste non ce l'ho mai. Levatevi. Le tette. Oh, ragazzi. Ragazzi, il loro aspetto generale. Le curve femminili, direi. Scusate, ma... Le curve femminili sono bellissime. No, dai, scherziamo. Scherzi a parte. Il loro aspetto generale. Va benissimo così. Leggi la storia dei personaggi? Sì. No, non è vero. Solo quelli che vi interessano. Ok, no. Leggo la storia in generale. Cosa ti piace di più dei nostri eventi di gioco? Di sicuro non le... Allo in Natale. Ovvio. Merit point a manetta. Sferi OP a manetta. Uh! Cosa ti piace di più dei nostri eventi in gioco? Narrazione? Nyeh. No. Eventi collettivi allo in Natale? Direi di sì. Le ricompense? Gem e sferi... Ah, però... Va bene le eventi collettivi. Avresti giocato a Brave Frontier se il suo... Sì. Riguardo a questa domanda... Riguardo a questa domanda... Io ho incominciato a giocare a Brave... Da un mio amico... Che a scuola mi disse... Ehi, guarda, ho scaricato questo gioco... Guardalo, è figo. E ho detto... Ah, sì, sembra figo. Dopo a casa lo scarico. E da lì è iniziato tutto. Anch'io sto per fare due anni di gioco... Infatti... Verso il 20 maggio... Sì, verso il 20 maggio... Anche prima... Io farò due anni di gioco... E quindi... Tanta roba. Conosciamo... Grazie mille per aver partecipato. Riceverai presto due gem. E tu vuole buona permanenza. Ragazzi... Io direi di concludere qui il video. È durato anche abbastanza lungo... A fare tutto il... Il questionario. Fatelo anche voi. Vi porterà via... Veramente poco tempo. E... Noi ci vediamo al prossimo video che... Allora, vi voglio dire questo. Il telefono che ho ora... Non gli va... Per ora... Alcun screen recorder. Ok? Quindi io non so come fare a registrare lo schermo del video. Da PC non va. Ho provato a fare... Non bene il... Come si chiama? Lo screen... Su computer. Io di solito uso Mobizen. Ma Mobizen e gli altri non mi vanno. Quindi... Se qualcuno di voi ha... I nomi di screen recorder... Me lo può scrivere anche qua sotto. Per favore mi sareste... Veramente utili. E... Lo voglio dire proprio all'ultimo. Così almeno la gente che non vede... Vabbè... Magari non lo sa. Dato che abbiamo raggiunto 700 iscritti... Ho una notizia importante. Regalerò un account. Ok? Regalerò un account e farò il video... Settimana prossima di sicuro. Perché oggi è venerdì. Regalerò un account. Non è mio personalmente. Ma ci rimarrete di stucco appena lo saprete di chi è. Quindi ragazzi... Noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre. E come sempre dai. Mi sembra... Mi sembra di essere... Di copiare gli altri. Noi ci vediamo al prossimo video. Noi ci vediamo. Ciao ragazzi. Ciao. Yeah. Woohoo. Noi ci vediamo al prossimo video. Noi ci vediamo al prossimo video. Noi ci vediamo al prossimo video. Noi ci vediamo al prossimo video.